Tarquinio il Superbo, secondo la tradizione, fu aiutato a prendere il potere da Tullia, moglie di suo fratello, ma anche figlia minore del re Servio Tullio. I due cognati, divenuti amanti ed uniti da una smodata ambizione, idearono un piano diabolico, decisero di eliminare i rispettivi coniugi e, non contenti, uccisero anche il padre di Tullia. La fine del re Servio Tullio fu particolarmente cruenta, infatti, dopo aver subito un violento agguato da Tarquinio, cercò di fuggire ma, la giovane figlia, lo travolse calpestandolo con il suo carro. Ancora oggi, a Roma, è possibile passeggiare sul luogo del delitto, il vicus sceleratus.